Bambini, ho trovato come farvi regalare un sacco di automobilini anche dopo Natale. Lasciate far a me. Cari genitori, a gennaio pensate anche un po' a voi. Regalatevi una bella automobilonna, una bella Fiat nuova. Fin al 31 gennaio avete milioni di risparmi con Sava e Sava Leasing. O in più per i diesel, due anni di Super Bowl compresi nel prezzo. E con i milioni che risparmiate. Pensate anche un po' ai bambini, un'automobilina. Gennaio, fino al 31, come Fiat non c'è nessuno.